la depressione mi sta venendo la depressione la depressione mi viene ero già pronto con il titolo piacenza 0 padova 1 la decide la belva no la decide la sfiga cazzo la sfiga al 91esimo contro gli ultimi in classifica che hanno fatto 4 punte in 11 partite pareggiamo al 91esimo porca troia non so cosa dire davvero non so cosa dire porca puttana da quando abbiamo preso con la pergolettese unica gioia la vittoria contro la tachestina nel derby non so cosa dire 10 minuti fabio ceravo lo segna il suo secondo gol di file dico oh mio dio si è sbloccata la belva finalmente non posso negarlo perché magari la prossima partita segna ancora ma non è sufficiente non è sufficiente contro il piacenza pareggiamo io 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 vado al manicomio oggi è allu e ditemi che hanno scherzetto per favore per favore sono sono depresso limolese in coppa italia serie c ci piglia schiaffoni noi siamo i detentori della coppa italia serie c il tre siamo contro limolese ci piglia no schiaffoni che due coglioni ho fatto anche rima stelli siamo lì davanti un gol basta ci siamo poi messi a fare le partite così del cazzo dov'è la proposizione offensiva di caneo un gol abbiamo fatto poi uno salvato sulla linea miracolo sui jelenic poi basta porca puttana porca puttana noi siamo a fare due gol contro sto piacenza e al novantunesimo crolla il muro eretto da donna roma che è l'unico ogni volta che ci salva non ho parole non ho parole non ho parole ragazzi non ho parole non so più cosa fare non so più cosa dire è surreale questa situazione non è possibile non è possibile iscrivetevi al canale mettete mi piace se ci riuscite per una cosa così surreale ci vediamo presto per un prossimo video mi dispiace ragazzi sono distrutto emotivamente psicologicamente fisicamente non ce la faccio ciao a tutti